Musica 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 Che sonne Non che devo tagliarlo Mamma mia Dai finché è ancora in ordine La si può filmare Eh amore però mamma mia Vabbè chi c'è il futuro Partiamo dal bagno Che è tipo bellissimo E tu mi dirai ma perché c'è bisogno di filmare il cesso Il posto è questo qui Per chi si è interessato Per chi si è interessato Toch Allora Prima La Vabbè Grazie a tutti Che bel brufo l'ombre Madonna guarda Guarda i tuoi occhi Fa un'impressione Grazie a tutti Ti amo Io di più Mi piace E' bello Amore non è neve Che cos'è? Glipp Ma che glippe? Oggi è sabato? Oggi è sabato Domani non si va a scuola Dov'è andiamo a scuola? No andiamo a scuola dal sabato da 200 anni Oggi è sabato Domani è un giorno speciale Oggi è sabato Meno male Finito Ah ma è finito Hai finito? Finito? Si Ma che parla C'è lo chiali Non mi dicono c'è Nonno Il poliziotto grasso Che si confonde con la gente Andiamo Niente questa Esatto Non è vero Questa è una colazione alla nostra Dove andiamo? Dove andiamo? Andiamo a Buda Madonna mia Comunque secondo me Poi mi scoppierà il telefono Tutti questi video Che sto facendo in HP Adesso ci incamminiamo Ci siamo fatti una bella Wow No guarda Ok Stamattina andiamo dall'altra parte Ieri abbiamo visto Tutta questa parte qua La parte Esatto E andiamo a Buda Giusto? Ciao 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 C'è Ma se c'è nel video Sì Guarda qui Ti vedi di scavalca Ma c'è Ma chi scavalca Scusa Wow C'è nel video toppe di gamma il 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 Comunque fino a dove possiamo arrivare è 47 metri, giustamente tutta la punta è fino a 78, non sono arrivata, è solo la guglia, noi arriviamo a 48 metri, ci l'abbiamo Sì, che frecce frecce Sì, che frecce Sì Sì Tra l'altro questo è un dolce proprio tipico, che non so bene come si chiami ma io lo chiamo camino Eh ma si pronuncia chimney o chimney? Sì Sì È un prodotto tipo da pastucceria Sì 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 Amore, ti piace? Sì. Com'è? 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 Anzi, si ritornano sempre dove si è stati là. Che hai visto? Ma che l'hai visto? No, questo posto è favoloso, super consigliato. Dai, consigli? Ci siamo tornati due volte in due giorni. Buono. Oggi l'abbiamo provato. Pronto? Vai! No, però, assaggiare la salsa così non mi sembra il caso. Buona? Vai, mangia. Buono. Ancora dobbiamo finire questo che era buonissimo. La salsa cipollosa non si sente, questo è veramente buono. Bruna Prue. Questa, guarda, cioè. Quello che mi viene bene. Ultimo giorno. No. Language. Vero che Plaine è il migliore? No. Grande sinagoga. Con l'alcrizione. Vero i suoi. Questa, è un taglio. Questa. Questa è un taglio. Questa è un taglio. Questa è un taglio. ma si scioglie il formato è buono ecco cosa succede quando vai nei giù non ti fria, arrivi due ore prima bello però bello 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 bello